La Polizia Municipale di Capaccio Pestum ha sequestrato un pozzetto di raccolta in località Ponte di Ferro. Gli agenti hanno scoperto degli sversamenti illegali in un torrente nel quale confluiscono ben tre canali consortili. Lo scarico è costituito nello specifico da un tubo di metallo con relativo pozzetto di raccolta, asservito ad un piazzale in cemento. I controlli si sono focalizzati oltre che sullo scarico anche sull'automezzo con il quale sarebbero stati sversati i liquami sospetti. A tal proposito sono stati eseguiti controlli mirati in diversi caseifici della zona, con campionatura dei reflui nelle vasche di raccolta, al fine di analizzare il tipo di sostanze sversate e compararle con i prelievi eseguiti alla foce e lungo il torrente dal personale dell'ARPAC. Grazie a tutti!